Immaginati che questa è una palestra sul bene comune. Ho appreso questo progetto con questa idea, poi quando è arrivato il tornado del covid ho capito che questo bisogno di luoghi, questo mettere a punto dei luoghi nuovi per la città era una roba urgente. C'è un bisogno di scelto che è incredibile, cioè come luogo in cui la città si incontra e scambia, è una cosa, è un'esigenza potente in un territorio. Dal mio punto di vista questo tipo di investimento, di infrastruttura aiuta e contribuisce a un'iniziativa nuova di sviluppo che gli dà senso al centro, che gli dà contenuti al centro. Il centro ha bisogno di contenuti costanti e continui, tu hai bisogno di contenuti costanti e continui nella tua vita, capito? E quindi hai bisogno di luoghi in cui rifornirti, luoghi di rifornimento, luoghi in cui diventa piena la tua cittadinanza, i tuoi diritti di cittadinanza vivono, hai capito?